C'è voglia di rivivere, di uscire e di sentire le forti emozioni che il corteo di Demetra trasmette sia ai turisti ma soprattutto anche a noi gangitani, è la nostra storia, siamo alla cinquantasettesima edizione e per noi è come se fosse la prima. Nel ricomporre civicamente l'ordine della natura si cerca di giungere ad una perpetua e incessante volontà di dare ordine al tempo e alla comunità. E' proprio l'emblema della comunità la Sagra della Spiga, al di là di qualunque appartenenza collaboriamo tutti affinché riesca la Sagra della Spiga che come ripeto è la nostra storia. È stata dura a ritornare dopo due anni di fermo però con la fatica e la dedizione di tutti, non solo del Consiglio ma di tutti i ragazzi che ogni anno aiutano la Proloco, ci siamo riusciti a realizzare anche quest'altra Sagra. La direzione artistica viene curata dal collettivo The Blades che ha un pochino modificato quella che era la solita sfilata. Vengono eliminate le sezioni che esistevano da anni durante la sfilata e viene tutto accorpato in un unico gruppo che mette insieme una storia che verrà raccontata dagli audio lungo il percorso e daranno un valore culturale in più alla sfilata. I figuranti quest'anno siamo circa 200 che come ogni anno ringraziamo tutti uno per uno per la dedizione e l'ascolto soprattutto che hanno dato a questo collettivo che ha curato la sfilata che minuziosamente ogni giorno ha lavorato notte e giorno per la realizzazione che non vedo tutto ciò che non vedo tutto ciò non vedo tutto ciò non vedo tutto ciò